Sei un fotografo amatore o professionista e vuoi far crescere il livello dei tuoi scatti, migliorare le tue fotografie, migliorare la tua post-produzione? Sei venuto nel posto giusto. Infatti sul mio canale che si occupa di fotografia, video, attrezzature, recensioni e quant'altro, andiamo di tanto in tanto a recensire i portfolio e le fotografie di utenti che mi mandano i loro link in cerca di un feedback costruttivo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Conoscete ormai questo format in cui andiamo a commentare le fotografie che alcuni coraggiosi, ardimentosi mi mandano tramite link di solito via chat? Faccio una doverosa premessa. Con il cambio di telefono passando iPhone 15 Pro ho fatto come sempre un po' di pasticci nel passaggio dei dati utilizzando app di terze parti, per cui io so che ci sono alcune persone che mi avevano mandato i loro portfolio. Fate conto che io sono partito dal fondo e sto tornando indietro, però a questo punto faccio fatica a tenere traccia di chi ho già recensito e di chi invece no. Per cui siccome non voglio essere ingiusto con nessuno, chi oggi non si vede recensito nel video di oggi mi faccia il favore di riscrivermi dove mi ha contattato precedentemente per dirmi oh ti ricordi di me che non mi hai ancora fatto? Ricordatemelo perché credo di essermi perso qualcuno. Vi ricordo anche per chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi al canale perché se poi esce il video in cui recensisco il vostro portfolio e non siete iscritti poi finisce che ve lo perdete e di sicuro non è una cosa auspicabile. Molto bene ma come avrete notato oggi non sono con la mia tenuta abituale, infatti sto apprestandomi a uscire e trovo lo stesso il tempo di realizzare questo contenuto per voi ma mi sono già preparato, sono pronto a uscire, ho le chiavi della macchina in tasca, sto registrando questo video che monterò in seguito. Adesso ci lanciamo dentro nel mio computer e andiamo a vedere che immagini mi avete mandato. Come sempre vi ricordo che io non sono un giudice di X Factor quindi il mio parere è un parere sì da tecnico ma anche da semplice osservatore quindi i feedback che andrò a darvi sono basati semplicemente sulla mia esperienza e andrò di volta in volta a dirvi questa foto è perfetta non si poteva fare di meglio, questa foto poteva essere migliorata secondo me in questo modo oppure semplicemente questa foto a me personalmente non piace ma può andare bene lo stesso. Quindi i miei feedback non sono mai distruttivi, io non vi dirò mai sei un deficiente fai schifo le tue foto sono spazzatura, non dirò mai una cosa del genere. Quando c'è una foto che non mi piace io non dico che fa schifo, io dico che si poteva migliorare magari in modi che a me vengono in mente, magari non era possibile migliorarla ma lì allora mi interrogo sulla necessità di scattarla lo stesso perché quando una foto non è bella e non c'era modo di renderla tale il mio primo pensiero è allora non la faccio. Quindi questa è anche una riflessione che vi porto. Non scattiamo a tutti i costi, non facciamo assolutamente la foto perché la dobbiamo fare a tutti i costi, se ci rendiamo conto che non viene bene non facciamola, se ci rendiamo conto che l'abbiamo fatta e non è venuta bene non postiamola, se l'abbiamo fatta, l'abbiamo postata e ci rendiamo conto che è di livello inferiore rispetto alle altre cancelliamola perché una foto brutta in un portfolio bello può danneggiare l'intero profilo. Adesso tuffiamoci nel computer e andiamo a vedere che cosa mi avete mandato. Ok ma eccoci qui all'interno del mio computer come vedete mi sono già preparato le schede, purtroppo ragazzi io cerco di farvi vedere le foto grandi però la verità è che le foto si vedono piccole sempre e comunque quindi che io ve le faccia vedere con lo screencast da cellulare o che ve lo faccia vedere con lo screencast da telefono comunque saranno piccole. L'unica cosa che potrei fare è scaricarmele tutte e andare a montarle nel programma di editing per i video però a quel punto avremo delle foto piccole che quindi sgranano perché a tutto monitor sgranerebbero quelle prese da instagram e inoltre io ci metterei tipo sei ore a montare questi contenuti per cui dobbiamo accontentarci di guardarle così. Partiamo con questo primo profilo. Allora qui abbiamo una fotografia con una bordatura importante che suppongo sia stata fatta per un motivo e per preservare il formato originale cosa che secondo me ci sta. Abbiamo una bella composizione simmetrica che probabilmente richiama anche un momento di vita che è stato vissuto quindi questa sembra una passeggiata in montagna. La foto secondo me è buona la cosa che a me ovviamente non piace è questa perdita di dettaglio però questo è il sole quindi qui c'era poco da fare qui o si faceva un mega bracketing o c'era veramente poco da fare si poteva magari aspettare un pelino in più che il sole fosse calato ma forse poi diventava troppo buia. Procediamo vedete che abbiamo nuovamente questa bordatura che infatti è stata fatta per un motivo perché qui abbiamo chiaramente un livello fotografico buono e qui c'è un pochettino questa questa gallery che riprende quella che potrebbe essere un'esposizione o un album fotografico con anche il nome qui sotto. Abbiamo parlato della filigrana in qualche video passato io sono contrario a mettere la filigrana però in questo caso non è sulla foto quindi diciamo che in qualche maniera trovo che ci possa stare. C'è anche un'ombrettina sotto che la rende molto fotografica proprio a quadretto. Qui abbiamo a che fare con una composizione sicuramente semplice l'esposizione direi che è buona. Mi sarebbe piaciuto vedere questa scena magari in notturna perché così può essere evocativa ma può anche risultare un po' semplice. Andiamo avanti ecco per esempio questa a me attira di più perché qui abbiamo abbiamo lo specchio d'acqua che quindi ci dà un po' di simmetria abbiamo ulteriore simmetria data dalla composizione con questa bite al centro. Devo dire che Instagram le massacra queste foto. Io vedo vedo male vedo veramente male quindi probabilmente l'originale era meglio purtroppo qua si vede male e immagino che la vedrete male anche voi ma non è colpa del fotografo quanto piuttosto è colpa di Instagram. Questa qui sembrerebbe una copertina quindi non la andiamo a commentare. Dunque qui abbiamo qualcosa di diverso nel senso il soggetto può essere sempre paragonabile anzi questa mi piace di più forse perché siamo un po' più vicini. Una cosa che vedo qui è che c'è una bordatura secondo me un po' eccessiva. Vi dico perché. Allora io qui vedo un filetto nero interno con angolo che sembrerebbe a punta dopodiché c'è un bordo esterno con angolo stondato. Questo secondo me è troppo mi dà un effetto proprio molto elaborato mi casca quasi più l'occhio su questa cornice piuttosto che sulla composizione quindi questo io l'avrei assolutamente evitato e anche quest'ombra rispetto alle prime adesso quest'ombra mi sembra un po' troppo forte un po' troppo presente e il nome qui secondo me non si vede cioè va un pochettino perso quindi è un peccato sia metterlo sulla foto sia perderlo quindi io l'avrei lasciato qui sotto. Però è un ragionamento che stiamo facendo a ritroso perché questa qui è una foto precedente rispetto a cioè stiamo andando all'indietro quindi in realtà sono state migliorate da quel punto di vista. Andiamo avanti ecco questa mi piace di più ma mi piace di più anche perché è più grande quindi ci facciamo trarre in inganno sicuramente anche dalle dimensioni. A me sembra di vedere tanto rumore suppongo che ci sia una motivazione perché comunque era una foto che può sembrare luminosa qui dietro c'era un cielo che c'era chiaramente il sole però potrebbe anche essere una zona buia questa e probabilmente è stata scattata così per un motivo che può essere la profondità di campo può essere la lente la strumentazione che si stava utilizzando. Globalmente devo dire che il rumore in questa immagine non mi disturba perché in qualche maniera la rende anche un pochino pittorica. I colori mi piacciono è una foto con una buona composizione anche se è comunque semplice visto il soggetto che non si presta a chissà quali virtuosismi sotto quel punto di vista. Andiamo a vedere la prossima e anche questa devo dire mi piace di più rispetto alle ultime viste è proprio una questione di dimensioni vedete la dimensione come influenza probabilmente vedere anche le altre senza quella bordatura la bordatura è elegante e ci sta però vederle a tutto schermo fa un effetto diverso a me stanno piacendo di più queste e secondo me le dimensioni contano e come inoltre qui non mi sembra di vedere filigrane e io personalmente preferisco preferisco di gran lunga non vederle. Devo dire che la pasta dei colori su questo su questo portfolio mi sembra molto carina devo dire credo che ci sia stato un bel lavoro di post produzione perché non credo che uscissero così direttamente. Qui torniamo con questa bordatura allora le immagini globalmente sono buone ci sono delle cose che io da fotografo di interni reputo dei problemi come la perdita di dettaglio ma sono cose che in realtà ci stanno perché quando hai il sole in camera non è che puoi fare granché è giusto così l'unica cosa su cui io andrei a lavorare ecco questa mi piace molto bella la composizione l'unica cosa su cui io andrei a lavorare un pochino ciao piccolo secondo me ci vorrebbe un po di uniformità mi spiego meglio un po col bordo un po senza un po con la filigrana sotto un po con la filigrana sopra un po senza filigrana intera un po con la filigrana insomma bisognerebbe fare uniformità e mi rendo conto che è difficile però una foto come questa piuttosto la tagliamo quadrata le facciamo tutte quadrate oppure le teniamo non dico non dico di farle tutte o orizzontali o verticali o quadrate però uniformità nel senso che se usiamo il bordo lo usiamo sempre se usiamo la foto intera la facciamo intera sempre perché altrimenti il risultato è che c'è poca uniformità sul profilo le immagini sono belle l'esposizione è sempre giusta questa cosa della poca uniformità secondo me è una cosa su cui si può lavorare su questo account per il resto devo dire il lavoro è buono è vorrei vedere magari più varietà questo lo dico sempre però il concetto è anche che se becchiamo un fotografo che fa natura alla fine come io faccio solo interni architettura quindi anche sul mio la varietà non c'è quindi per valutare le skill di un fotografo vorrei vedere qualcosa di più però questo è più che sufficiente quindi secondo me buon lavoro la prima la prima cosa su cui lavorare secondo me è questa un pochino più di uniformità passiamo al secondo account e qui abbiamo come potete vedere un feed interamente in bianco e nero il che non ci dispiace anche se secondo me il bianco e nero va usato con molta cautela e vedete questo è il tipico caso allora la foto non è malvagia però può essere evocativa di un posto che capisco essere parma dagli hashtag sono anche stato a parma mi piace moltissimo non conosco questo spot diciamo che se questo è uno spot particolare incredibilmente significativo della città di parma io non lo conosco chiedo scusa però il risultato è che io guardo e non capisco bene qual è lo scopo cioè io qui vedo una una sorta di cos'è una terrazzina con due persone che non capisco se sono soggetto principale della foto oppure no ma credo di no io credo che questa sia stata scattata con due persone che se ne stavano andando in questo caso io avrei aspettato che se ne andassero perché se non sono soggetto principale avrei preferito non averli viceversa se sono soggetto principale non capisco cosa stanno facendo quindi in entrambi i casi c'è un problema secondo me con queste due persone posso capire che siano state lasciate per far capire le proporzioni però c'è un cartello stradale quindi non serviva secondo me posso capire che siano state lasciate per far vedere che il posto non è abbandonato che comunque è un posto vivo però per quanto mi riguarda non è sbagliato è una questione di gusto però per quanto mi riguarda io avrei preferito o averle qui più grandi o non averle proprio perché lì mi portano l'occhio lì però io trovo inutile avere l'occhio che si focalizza qua perché io qui credo che la cosa più importante sia innanzitutto questo spazio e in secondo luogo l'albero e magari le case dietro con il ponte queste due persone non mi stanno dando emozioni mi stanno in qualche maniera incuriosendo ma senza poi darmi la ciccia non so se mi spiego andiamo avanti e qui mi trovo già di più perché qui abbiamo una bella composizione con le montagne un bianco e nero che ci sta perché abbiamo un bel contrasto ma mi sto domandando infra red infatti questo è infra red perché qui abbiamo una colorazione degli alberi che assolutamente poco naturale e quindi qui si capisce l'ho capito in pochi secondi dai sono stato bravo che è infra red quindi doppiamente pregevole fatemi vedere una roba è infra red anche questa no non credo perché le foglie sono scure fosse stata infra red anche questa avrebbe avuto tutt'altro significato a mio parere questa mi piace di più andiamo avanti qui di nuovo questa non sembra infra red allora qui ci sta composizione di questo moletto che la rende in qualche modo particolare cattura l'occhio allora io ovviamente come sapete qui vado a cercare il pelo nell'uovo è non è una cattiva foto diciamo che ha più significato secondo me per chi è stato qui piuttosto che per chi non c'è stato perché io che sì ok fiume po mi rendo conto del contesto però mi comunica poco è proprio così un paesaggio descrittivo io cerco il pelo nell'uovo ovviamente la foto va bene se io fossi stato lì probabilmente avrei fatto la stessa cosa in questo caso avrei voluto magari avvicinarmi un pochino di più avere qualcosa di queste barche un pochino più in primo piano però mi rendo anche conto che magari non era possibile magari l'intento era proprio questo quindi sapete che c'è secondo me ci sta e passiamo alla prossima qui abbiamo un infra red e qua capite che qui mi piace molto di più qui abbiamo questo bellissimo effetto sugli alberi che rimangono più chiari perché la clorofilla fa questo effetto quando scattiamo in infra red qui abbiamo due persone che camminano ma non mi danno fastidio in questo caso perché fanno parte della scena sono perfettamente integrate non mi buttano l'occhio lì così tanto il mio occhio finisce qua sulla parte più chiara su questo ponte quindi in questo caso secondo me la composizione funziona molto di più il contrasto funziona benissimo il fatto che sia infra red la rende doppiamente pregevole mi sembra che qui non ci sia effetto silk sull'acqua il che mi fa pensare che questa sia una macchina fotografica che è stata convertita per l'infra red quindi che scatta anche con tempi rapidi per l'infra red senza dover per forza allungare i tempi per utilizzare un filtro come invece facevo io quindi ottimo lavoro e complimenti per il coraggio di aver modificato una fotocamera andiamo avanti qui abbiamo una composizione senza infra red con questo tronco allora il contrasto è buono il bianco e nero ci sta il grosso problema del bianco e nero secondo me è questo che se da un lato nobilita quello che stiamo vedendo dall'altro a me viene da pensare ok il bianco e nero toglie la mia foto da un contesto temporale la colloca in una dimensione senza tempo però io mi domando in una dimensione senza tempo che quindi dovrebbe assumere quasi una connotazione storica o evocativa che cos'è questo cioè io capisco la bellezza delle forme però è se mi fermo a rifletterci è proprio solo un tronco quindi rimane un momento catturato da una gita un'escursione che si è fatta in questo posto però di nuovo rischia rischia dico perché io comunque sono qui a farci attenzione ma rischia per un osservatore casuale di avere poco senso perché un osservatore casuale guarda e dice boh un tronco cioè rischia di essere il bianco e nero a volte rischia anche di banalizzare perché rischia di avere una pretesa comunicativa che poi non trova riscontro nel soggetto molto banalmente andiamo avanti e qui abbiamo fotografia street questi erano sicuramente dei giocolieri in una piazza quindi il fatto che si capisca al volo direi che secondo me è una buona foto questa è evocativa questa qui mi evoca immediatamente delle cose quindi qui è difficile dire ma che cosa cavolo me la fai vedere a fare perché qui ci trovo immediatamente un significato anche la particolarità di scarpe e calzini ci trovo dei significati lo capisci subito questo è un giocoliere o magari un circo o qualcosa del genere però ha assolutamente senso e ci sta moltissimo anche che sia in bianco e nero questa mi piace tantissimo infrared architettura bella composizione bella esposizione il cielo fantastico queste cose a me piacciono veramente tanto qui non ho non ho assolutamente nulla da dire perché l'avrei fatta probabilmente io l'avrei fatta peggio di così e qui pure qui abbiamo un po di un po di contesto urbano con dei graffiti chissà se è infrared questo mi domanda non si capirebbe il cemento rimane pressoché uguale ci sta eh ragazzi ci sta allora secondo me questo profilo non è non è niente male la cosa secondo me su cui si può lavorare ci sono alcune foto che spaccano ce ne sono altre che a mio avviso rischiano di non riuscire a comunicare quello che dovrebbero e vi segnalo in particolare queste due perché possono essere giuste curate nell'esposizione nella composizione ma il soggetto il soggetto lascia secondo me l'osservatore con il dubbio cosa devo guardare perché me la sta facendo vedere questa cosa non capisco qualcosa sono io che non sto capendo dove devo guardare questo dubbio o è fatto apposta in tuo caso ci sta anche voglio lasciarti il dubbio essere ermetico criptico allora ci sta però secondo me in un'immagine così è molto più comunicativa si capisce molto di più anche se non ci sono persone andiamo avanti qui abbiamo un account di 500 pixels piattaforma che io vi devo confessare ho un po abbandonato perché io la usavo per vendere ma non riuscendo a vendere praticamente niente avendo anche avuto dei problemi tra getty images e 500 pixels ovviamente ho preferito rimanere su getty perché lì invece dei soldi mi arrivano allora rapida occhiata a questo portfolio perché qui con un metodo di fruizione di questo tipo che questo non è instagram e quindi qui si riesce a godersene meglio le cose allora direi una bella gallery tanta natura cinque torri dolomiti tanta roba bel posto abbiamo un po di tutto qui perché abbiamo still life che non è veramente still life perché c'è un bel micio abbiamo un tramonto che direi è fatto anche piuttosto bene perché qui ho i dettagli su tutto quanto vedete io qui se avessi avuto un alone gigante di bianco mi avrebbe dato fastidio invece qui l'unica parte con perdita di dettaglio è proprio il puntino del sole quindi questa è un'esposizione che a me piace poi vediamo cos'altro c'è vado un po a caso perché non le guardiamo tutte ovviamente qui abbiamo anche un po di macro anche con un bello sfoccato chissà se mi dice con cosa è stata scattata panasonic lumix dmc fz 300 cos'è la fz 300 è una bridge che non mi ricordo più chissà se me la fa vedere no non me la fa vedere non vorrei dire una cavolata ma dalla sigla credo che potrebbe essere una bridge direi che si comporta piuttosto bene comunque su questa ragazzi niente da dire il posto è così figo che probabilmente qui riuscirei a farla bene anch'io c'è una cosa che non mi convince questa persona che non so chi sia però il fatto che sia tagliata un po mi disturba io qui avrei o incluso per intero questa persona rinunciando magari a due dita di di margine qui sull'altro lato che tanto qui era tutto uguale questo crinale quindi non perdevo niente a tagliarla qui oppure avrei rinunciato in toto a questa persona tagliandola qua io avrei fatto così e tra le due vi dico che forse l'avrei inclusa per intero questa persona perché tanto è pieno di gente quindi evitare le persone non era cosa e quindi avrei incluso anche questa persona per avvicinarmi in qualche maniera alla scena è ovviamente una questione di gusto perché per il resto andava benissimo lo stesso qui abbiamo fotografia di sport e abbiamo un tornante con tanti ciclisti che corrono ho fatto anch'io fotografia sportiva quindi devo dire questo punto di vista direi che va assolutamente bene il movimento sembra anche congelato abbastanza bene quindi da quel punto di vista direi che a livello tecnico ci siamo che dire mi sembra un portfolio niente male devo dire ok qui c'è un po di bianco e nero qui abbiamo sempre il solito problema secondo me col bianco e nero cioè ci sta andare a contrastare maggiormente mettendo il bianco e nero però se l'osservatore si domanderà come mai è stato usato il bianco e nero secondo me si poteva evitare questa foto funzionava benissimo anche a colori anzi forse funzionava meglio qui abbiamo classico ponte di brooklyn composizione simmetrica questa la voglio fare anch'io prima o poi è esattamente la stessa cosa la voglio fare anch'io però probabilmente segherò qui perché non voglio le persone in campo quindi andrò più sotto e la farò da un po più avanti tiltando verso l'alto per non prendere le persone ci sta capite che una foto del genere secondo me ha più senso a colori che in bianco e nero idem dicasi per quella vista precedentemente secondo me per usare il bianco e nero ci deve essere un motivo molto forte come questo qui c'è un maledetto motivo molto forte di usare il bianco e nero porca miseria ragazzi questa è bella questa è una figata che sia in bianco e nero e lo capite da soli perché non ve la devo nemmeno spiegare e questa la potenza del bianco e nero se vi devo spiegare perché l'ho messa in bianco e nero e la risposta mi esce male ho sbagliato a usare il bianco e nero questa è una bomba procediamo con il prossimo account e qui devo devo capire un attimino quali sono le foto che vado a commentare perché ce ne sono alcune che sono chiaramente foto personali quindi qui non andiamo a giudicare la tecnica anche se questa è molto bella devo dire questa qui mi piace un sacco però non posso commentare questa perché andiamo a vedere cose di tecnica questo credo che sia un selfie quindi non andiamo a commentare questo e beh però la prima foto che andiamo ad aprire chissà se c'è scritto come è stata scattata no non vedo dettagli sulla è una bomba ragazzi è pazzesco allora io qui vedo spero che riusciate a vederlo anche voi mi sembra di vedere un micro piccolissimo contornino intorno alle cime ora siccome le faccio anch'io queste cose poi l'autore mi dirà magari nei commenti se ci ho visto giusto ma io quando vedo questo effetto quando vedo questo questo vedete questo bianchino qui in mezzo mi viene da pensare due cose mi viene da pensare innanzitutto che non sia stata scattata proprio così o se è stata scattata così c'è stato un recupero importante delle alte luci cosa che può essere se invece non dovesse essere stata scattata così è possibile che il cielo sia in qualche maniera stato editato è una cosa che faccio anch'io non è una cosa brutta ed è normale che si veda è normale che si veda perché si vede anche nelle mie se uno sa dove guardare la maggior parte delle volte se ne accorge c'è anche da dire che questo effetto viene fuori anche quando facciamo un hdr quindi questa scena poteva essere veramente così e nel caso in cui ci sia stato un hdr un bracketing importante è possibile che questo effetto sia venuto fuori in quel modo perché comunque stiamo sommando esposizioni diverse e un po di discrepanza viene fuori quindi spero di trovare un commento dell'autore per sapere com'è andata in questa immagine per sapere se la scena era veramente così ed è stata un po sistemata oppure se è stata sistemata tanto o questa curiosità l'immagine è bella andiamo avanti e qui abbiamo di nuovo esposizione perfetta abbiamo un effetto seta qui su quest'acqua mi domando una cosa mi domando come sia stata fatta mi sa che è un'esposizione lunga ma non lunghissima perché qui vedo vedo troppi dettagli sull'acqua quindi questa qui secondo me è un'esposizione di un venticinquesimo di secondo un decimo di secondo una roba del genere non è lunghissima io l'avrei allungata per avere l'acqua tutta liscia secondo me avrebbe dato qualcosina di più andiamo avanti allora faccio fatica a commentare il portfolio in sé perché qui ci sono foto personali mescolate a foto che andiamo a commentare quindi questa io capisco essere una foto dei colori autunnali magari questa via ha un significato personalmente non capisco allora andiamo a vedere pisa quindi forse questa è pisa io non capendo dove si trova perché non avrei capito se non ci fosse stata negli hashtag io una cosa del genere l'avrei probabilmente fatta in un altro modo avrei preso solo le foglie avrei cercato una composizione artistica con le foglie perché qui il rischio è che l'osservatore non capisca cioè io la guardo e dico ok ma cosa devo guardare la strada le case il cielo ok capisco che devo guardare l'autunno però l'autunno è quasi marginale qui cioè questo è un racconto dell'autunno in questa via che però non è una via caratteristica non è almeno che io sappia non è una via famosa di di pisa se è veramente pisa magari è dintorni e quindi capito il problema è che se faccio fatica a comprenderla può anche dire guarda l'ho postata sul mio account personale non è non la devi capire piaceva a me basta e quello ci sta però diciamo che in ottica di portfolio se io non capisco lo scopo della foto questo può essere un problema quindi visto che le stiamo commentando io segnalo questa problematica ecco questa vedete questa qui è più evocativa questa qui ha meno bisogno di essere spiegata questa si capisce spiaggia scogliera artificiale mare mosso detriti cannule portate in spiaggia dalle onde questa si capisce l'orizzonte un po storto quindi questo è un peccato perché la foto può essere molto potente però questo orizzonte storto a me casca un pochettino all'occhio io l'avrei raddrizzata in post prima di postarla perché secondo me si poteva raddrizzare si perdeva qualcosina ma e secondo me era meglio avrei voluto vederla dritta ecco poi abbiamo un po di foto sportive queste insomma ragazzi queste ci stanno ma queste sono sono foto molto personali quindi qui faccio faccio fatica a commentarle cioè va bene ma questa è cronaca di un momento ecco questa mi piace che cosa abbiamo qui questa mi piace moltissimo bella e qui abbiamo guardate che bello orizzonte dritto abbiamo questa struttura che mi piace composizione veramente perfetta esposizione perfetta colori bellissimi questa è una cannonata capite che faccio fatica a a trovare un filo logico nel portfolio perché faccio fatica ad accostare questa con quest'altra capito cioè ci stanno in un portfolio personale perché portfolio dice è mio io posto le mie cose ho fatto una corsa di ciclismo e poi ho visitato un posto ci sta a livello di portfolio faccio fatica a vederle insieme e quindi secondo me questo confonde un po anche questa è bellissima faccio fatica a vedere insieme le due cose soprattutto per come congegnato instagram instagram vorrebbe gli account monotematici quindi in questo caso anche questa è carina con la lunga esposizione in questi casi io consiglierei di tenere gli account separati anche sti giochini a me piacciono tantissimo cos'è questa una faccina no figo figa questa roba a me piacciono tutte queste cose però io le separerei io separerei la parte personale sportiva dalla parte più artistica paesaggistica o quel che si voglia perché l'account se ne giova l'account se ne giova nel senso che le persone capiscono meglio che cosa fai capiscono meglio se vogliono seguire questa qui è l'eclessi bellissima gli utenti non capiscono che cosa fai se tu mi posti prima questa e poi mi posti una foto personale l'utente non capisce che cosa fai non capisce che genere fotografico fai magari prima si iscrive poi si disiscrive perché dice ho capito male questo qui ha postato una cosa che mi interessava e poi posta le sue cose personali quindi uno si disiscrive quindi a livello di portfolio se lo vogliamo usare in questo modo è meglio avere una coerenza secondo me ve lo segnalo poi ovviamente ognuno fa quello che vuole e questo può benissimo essere un account personale quindi niente da dire andiamo avanti qui abbiamo una cosa che finora non avevamo visto ovvero un account con i caroselli prima immagine che andiamo a vedere che non è la più importante solo l'ultima postata allora l'esposizione qui a me non fa impazzire perché c'è un po di perdita di dettaglio però c'è questo effetto un po vintage che secondo me può essere una motivazione andiamo avanti io non sono fan del primo piano sfocato in questo caso secondo me ci può anche stare oltretutto conosco molto bene la zona qui c'è starbucks e direi che ci sta colori ed esposizione mi sembrano molto buoni mi sembra che abbia un feel pellicoloso milano film infatti questa è scattata pellicola secondo me metropolitana sì l'ho fatta anch'io questa quando ha aperto la metropolitana l'avevo fatta anch'io non ho resistito sì sembra proprio sembra proprio pellicola bell'esperimento anche questo esposizione lunga pellicola questo è pregevole cosa è via torino no non riesco a capire bene però sì bene o male sì forse via torino esperimento pregevole mi rendo conto che non è facile scattare in questo contesto questa qui classicona l'ho fatta anch'io chissà se ancora qui non ci sono gli hashtag chissà se ancora pellicola no questa non mi sembra pellicola conosco bene i posti quindi capire anche questa l'ho fatta anch'io ci siamo ci siamo trovati sui soggetti anche questa l'ho fatta anch'io perché comunque a milano abbiamo questo problema dei parassiti carino lo scorcio allora cerco di farmi un'idea globale carini funghetti ma io avrei messo a fuoco qui che secondo me veniva un pochettino più più compatta la scena allora ci sono sicuramente delle cose pregevoli come questa che è molto carina e anche quei colori bellissimi chissà se ancora film no no questa qui forse è digitale bellissimo qui colori qui credo che ci sia una desaturazione su tutto tranne che sull'arancio però me ne accorgo solo io perché comunque ci sta qui abbiamo un bel tramonto posto carino allora da quello che posso vedere qui c'è un bell'occhio e c'è curiosità nel cogliere i dettagli acqua sono stato anch'io bellissimo composizione perfetta senza gente fantastico quando sono andato io era pieno di gente non ho tirato fuori granché infatti non vi ho neanche fatto vedere nulla bello bellissima bellissimo punto di osservazione buona composizione anche qui peccato sti lavori bruttissimi però il resto molto bello anche qui cartello ci sta e andiamo avanti perché ho visto qualcosa che mi piaceva molto winchester a ripetizione con le sue belle cartucce che cos'è questo qui al di là della foto a me piacciono un sacco le armi questo non capisco che cos'è però questi scenari industrial a me piacciono tantissimo mi domando se qui fake weapons che cos'era una mostra qui abbiamo una bellissima composizione con delle nuvole insomma globalmente questa questa mi piace un sacco qui abbiamo un bel vetro che mi fa un bel flare con questa polvere sollevata non capisco che cos'è ma qui forse ancora soft air stavano sparando a qualcosa e quello era un proiettile finito in terra allora globalmente mi sembra che ci sia un buon occhio e tanta curiosità e tanta sperimentazione io cercherei di dare un po più una direzione a questo a questo profilo perché ci sono tante cose mescolate questa questa è molto carina e qui è più comics infatti qui è più credo sia un cosplay qui è più il soggetto che fa la foto piuttosto che altro peccato la bottiglia di plastica quella sarebbe stata meglio non averla qui abbiamo è carino carino cosplay io cercherei di dare un pochino più una direzione ma per un motivo proprio sia organico ma sia anche per avere un flusso di idee che finiscono sul profilo cioè stesso problema di prima vedo tante cose che cioè queste potrebbero essere fotografie di viaggio questa però è un dettaglio macro qui abbiamo un dettaglio di esposizione suppongo di armi fake weapons quindi armi finte qui abbiamo un abstract praticamente qui abbiamo urbex suppongo luoghi abbandonati bellissimo a me piacciono da matti queste cose sì sì questo è proprio urbex anch'io facevo urbex anni fa e vorrei farlo ancora ma non trovo più posti mamma mia che spettacolo sto posto capito sono tutte buone idee però io cercherei di prendere una direzione di dire ok facciamo facciamo più quello che ha funzionato quindi le cose che sono piaciute di più andiamo più in quella direzione per una questione proprio organica di feed e di portfolio per avere un portfolio più consistente per il resto le immagini vanno bene non vedo grosse cose da segnalare non vedo errori da da segnalare solamente una questione di coerenza interna del profilo andiamo all'ultimo profilo che vedremo oggi allora qui andiamo a vedere le ultime dieci foto pubblicate e ragazzi allora questa qui mi piace molto abbiamo una una veduta molto bella con le persone messe tutte nel posto giusto quindi lavorato di composizione molto bene l'esposizione è buona qui è un pochino chiara però al diavolo cioè voglio dire non si può sempre fare il bracketing qui non capisco se è un alba un tramonto suppongo un tramonto ci sarebbe meno gente mi sarebbe piaciuto vedere i lampioni accesi ma probabilmente l'orario non era compatibile quindi non si può avere tutto andiamo avanti e allora qui vediamo se c'è un'indicazione su dove è stata scattata vista panoramica sì away mate 20 però non capisco dove è stata scattata probabilmente non importa scena molto bella mi piacciono le nuvole mi piace il tramonto mi piace il sole l'unica cosa che non so se mi fa impazzire c'è tantissima acqua qui sotto io questa qui forse l'avrei fatta orizzontale l'avrei fatta orizzontale segando qua perché tutta quest'acqua non mi sta dando chissà cosa il soggetto qui secondo me è il cielo per contro mi piacciono tantissimo queste scie che ha fatto il sole mi domando se sia la lente del telefono oppure se sia stata scattata da dietro una finestra da dietro un vetro che abbia prodotto questo effetto che comunque è molto bello mi domando come sia stato fatto perché sarebbe bello replicarlo andiamo avanti qui abbiamo bella esposizione di sembrerebbe di nuovo un tramonto anche qui mi domando cosa sia questa riga è il telefono è il huawei che fa questo effetto oppure stavamo scattando da dietro una finestra che produceva questo effetto di luce carino anche se qui mi è un po difficile andare più in profondità perché è proprio una veduta della città dall'alto però non ci sono almeno che io veda non ci sono cose riconoscibili per dire sì è bella non è bella è proprio solo un tramonto fatto da una finestra molto alta o da un drone chi lo sa direi che ci sta però non mi sta comunicando tantissimo può essere sì una cartolina che ci sta va bene andiamo avanti allora questa io ci vedo un po di problemi nel senso allora va bene cromaticamente un bel colpo d'occhio e mi rendo conto che non si può scattare dritta una foto del genere perché siamo sotto e probabilmente non possiamo indietreggiare quindi va bene così il problema che riscontro io personalmente è che cosa mi stai facendo vedere che cos'è questo palazzo perché me lo mostri quando io faccio fatica a capire perché mi fai vedere una cosa mi domando sempre se non si poteva fare in un altro modo per farmelo capire meglio e attenzione quest'altro modo per farmelo capire meglio poteva essere includere dei dettagli nella didascalia qui abbiamo una pentax k5 sì qui c'è questa piattaforma usa foto che io non conosco bene sì mi invita a fare delle domande all'autore quindi si possono chiedere le cose i dubbi che io ho potrei chiederglieli qui sotto però personalmente credo che sarebbe meglio quando si sviluppa un progetto fotografico sarebbe meglio o includere qualche indicazione oppure includere più foto in maniera tale da far capire prima il contesto e poi andare su un dettaglio come questo qui a me sembra di vedere questi sono dei dots che cosa sono questi che cos'è questa roba qui questa questa roba a me non piace tanto non capisco se sono grani di polvere sul sensore o sulla lente oppure se sono pennellate che sono state date per rimuovere qualcos'altro in ogni caso questa roba spero che riusciate a vederla questi punti nel cielo secondo me sono digitali sono aggiunti dopo e io non vorrei vederli questi cioè sono innaturali quindi secondo me non ci dovevano essere non se ne accorgerà quasi nessuno ma secondo me non ci dovevano essere andiamo avanti allora composizione perfetta il bianco e nero ci sta perché mi rendo conto che in questo caso la composizione a colori sarebbe stata comunque monocromatica quindi forse risultava noiosa in questo caso ci sta stiamo sempre attenti col bianco e nero perché siamo sempre al limite però in questo caso va bene qui pure capite cioè questa è una composizione che poteva tranquillamente essere monocromatica diciamo che io approvo la simmetria mi piace non so che cosa sia questo altare il rischio qui è può essere una cosa bellissima con una tradizione millenaria nel cuore di un borgo sperduto quindi può essere la cosa più bella interessante del mondo rischia anche di essere banalizzata perché a colpo d'occhio dico ok è un altarino però non so cos'è non so dov'è non mi non mi significa granché quindi questo è questo è un contesto secondo me un quasi un po da reportage dove probabilmente una spiegazione in più sarebbe necessaria per apprezzare a pieno l'immagine che comunque è buona io mi immagino che sia stata fatta così gli spazi potevano anche consentire poche altre composizioni quindi mi rendo conto che probabilmente questa era la composizione migliore che si poteva fare andiamo avanti queste cose le ho fatte anch'io a crema o cremona non mi ricordo più le ho fatto anch'io la stessa identica composizione in una situazione analoga quindi va benissimo vediamo un po non mi dispiacciono neanche le persone e non mi dispiace il colore che ha questa immagine credo ci sia stata della post produzione vediamo un po pentax k5 quindi probabilmente c'è stata della post produzione colore molto bello l'immagine assolutamente gradevole mi domando allora qui c'è una coerenza perché qui mi sembra che tutte le immagini abbiano questa cornicina che non so se sia messa dall'autore o se sia la piattaforma però almeno tutte le immagini vedete che hanno questa cornicina è giusto cioè nel momento in cui la mettiamo sulle nostre foto la mettiamo sempre in maniera tale da avere una coerenza qui di nuovo un po stritto un po quasi reportage non capisco non capisco che cosa bari vecchia se forse dovevo guardare qui forse c'erano le indicazioni ci sta e ha un look molto pellicoloso molto film ci può stare anche qui diciamo che si è un rilevamento storico di questa installazione mi domando se sia l'angolazione migliore e mi rispondo di sì perché se l'autore mi sottopone queste immagini immagino che sia l'angolo migliore purtroppo non ci sono mai stato quindi faccio fatica a giudicare sicuramente è caratteristico forse non mi piacciono tanto le persone non mi piace tanto quest'auto se fosse stato possibile io avrei aspettato che non ci fosse nessuno e avrei tagliato quest'auto muovendomi un pochino più a destra magari sono le uniche cose che mi vengono in mente perché per il resto c'è l'immagine va bene ecco qui invece non mi disturba per niente che ci siano le persone perché qui non è non stiamo fotografando questo ponteggio qui stiamo fotografando una scena di vita quindi c'è quello che sembrerebbe un mercato qui c'è un suppongo un pescatore che sta riparando la barca questa macchia di colore rosso su blu è una bomba pazzesca questa va benissimo che ci sia gente e va benissimo così questa qui forse di quelle viste in questo portfolio è l'immagine più forte che abbiamo visto finora quella che mi convince di più andiamo avanti qui capiamo benissimo che è sempre lo stesso soggetto quindi qui lavoravano in squadra ed erano in tre anche questa funziona tantissimo questa mi sarebbe piaciuto vederla in bianco e nero perché comunque in questo caso secondo me si prestava preferivo quella di prima però anche questa ha un suo perché ha una sua potenza espressiva andiamo avanti questa questa è carina cioè vedete in questo caso secondo me ci sta questa qui è un po street e in questo caso secondo me ci sta tantissimo perché stai riprendendo un momento di vita però il problema il grosso problema della street secondo me è che è una palla mortale io non ne posso più di vedere gente che fotografa le persone alla fermata della 90 è una noia pazzesca cioè cose che vedi tutti i giorni le persone sulla metropolitana col cellulare col cappuccio abbassato non sono belle non sono evocative le vediamo tutti i giorni è noiosa la street fatta così questa è bella perché qui mi stai facendo vedere una cosa particolare mi stai facendo vedere una professione che probabilmente sta per scomparire che insomma non lo so non lo so come sia messa la pesca a suppongo sempre bari sì 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 siamo in un album che si chiama bari non so come sia messa la pesca lì però io la vedo un po a rischio credo che sempre meno persone la vogliano fare infatti io qui vedo solo persone di una certa età che la fanno e quindi mi diventa evocativo non è il san carlino sul tram con con il cellulare con il berretto di new york yankees capito quello lo vedo tutti i giorni non mi interessa vederne altri questa invece è una scena che mi racconta una storia una storia di qualcosa che potrei anche non trovare più nella realtà e quindi me la potrò godere solamente attraverso le immagini quindi questa foto a me sta dicendo qualcosa barchette minimal bello il colore anche qui sembra molto pellicolosa cosa che ci sta assolutamente questa qui forse era una regata bella composizione minima l'orizzonte dritto sempre la nostra cornicetta un'immagine non fortissima però funziona tantissimo quindi ci sta di nuovo minimal di nuovo funziona qui abbiamo un po di simmetria che funziona ci sta non mi disturba che questa questa balaustra non sia dritta perché probabilmente qui c'era una salita una discesa all'orizzonte invece mi sembra dritto quindi da quel punto di vista funziona mi piace non sono convintissimo di questo lampione ma sto proprio guardando il pelo nell'uovo perché l'immagine funziona quindi anche per questo profilo devo dire ci sono delle cose che funzionano molto bene ce ne sono delle altre che non mi convincono appieno nello specifico non sono convintissimo del bianco e nero sulla su questa immagine non sono convintissimo di questa foto perché non so cosa sia cioè sì ok madonna però non ne conosco l'importanza e quindi se è una cosa molto importante ci sta ma se è una cosa di rilevanza minore è un'immagine che è un po debole in questo portfolio le altre ce ne sono alcune molto belle anche per questo profilo abbiamo detto la nostra bene amici come avete potuto vedere oggi avevamo dei portfolio tutto sommato di sostanza perché non ho visto cose per cui dire no guarda qui devi ancora crescere tanto no le foto erano tutte buone abbiamo a che fare con una serie di fotografi che chi amatore chi semi pro insomma abbiamo una bella eterogeneità di di persone di profili secondo me è una cosa su cui bisogna fare un po di attenzione bisogna prendere una decisione come impostare il profilo ovvero ci sono alcuni profili che sono molto settoriali molto indirizzati quindi magari hanno solo natura o solo bianco e nero ora questi profili funzionano perché stanno facendo vedere quella roba lì e solo quella roba li e ti stanno facendo vedere che è la loro passione il loro target il loro core business e fanno quello e magari lo fanno bene questi profili sono magari difficili da giudicare dal punto di vista meramente fotografico perché se mi fai vedere solo natura io posso giudicare solo le tue foto di natura quindi non so se sei un fotografo completo magari se ti metto a fare matrimonio non sei capace magari se ti metto a fare still life non sei capace perché sai fare solo natura io non lo so quindi posso giudicare solo quello per contro però ci sono altri profili dove c'è un po di tutto dove c'è un po minestrone quindi c'è la foto sportiva il selfie la foto di paesaggio il ritratto la foto dell'animale la macro secondo me bisogna bisogna avere molto chiara questa cosa bisogna avere chiaro l'obiettivo che ci si prefigge ok perché se io butto tutto dentro faccio un calderone ok quello è un profilo personale e quindi diventa difficile giudicarlo come portfolio perché è un profilo personale dove ci sono dentro cose mescolate viceversa se io ho un target preciso voglio fare foto di matrimonio perché voglio fare il matrimonialista e voglio prendere i matrimoni è inutile che posto i miei selfie devo andare giù dritto sui matrimoni per andare a prendermi quella nicchia di mercato bisogna decidere questa cosa bisogna avercela molto chiara e di conseguenza si propone un portfolio con un progetto unitario dove c'è una cosa sola se si propongono più cose se si vuol fare una cosa varia in entrambi i casi deve essere secondo me molto chiaro dal portfolio qual è l'obiettivo cioè quello che io vi consiglio è di non buttare cose a caso solo perché vi piacciono se avete in mente di fare un portfolio unitario con un target ben preciso faccio un esempio io faccio arrampicata sono uno scalatore voglio fare un profilo dedicato alla montagna non ci butto dentro anche le foto al mare faccio solo quello viceversa è un mio profilo personale ok butto dentro tutto faccio una foto spettacolare poi c'ho una foto del piatto con la polenta e poi c'ho un'altra foto del mio coniglietto ok però quello è un profilo con cui difficilmente si andrà a lavorare difficilmente chi lo guarda capirà che cosa volete dire perché sarà proprio una pagina blog un profilo personale che però difficilmente poi trova un ampio riscontro quindi io ve lo segnalo in maniera tale che sono tutte riflessioni che poi possiamo andare a fare nei commenti dove vi aspetto come sempre vi ricordo anche di scrivervi perché io spesso nei commenti rispondo con dei video contenuti shorts verticali quindi se vi iscrivete non vi perdete poi le risposte che vado a dare a eventuali vostri commenti domande o chi più ne ha più ne metta amici questo video è infinito è uno dei tre più lunghi che io abbia mai fatto per cui adesso interrompiamo qui mi rendo conto che è lunga la cosa lo so me l'avete detto sono troppo lunghi ma io faccio fatica a fare questi contenuti cioè montare il setup mettermi lì a commentare le foto è una cosa che mi porta via tanto tempo e quindi lo faccio una volta non mi metto qui 20 volte per commentare 20 account mi metto qui una volta lo faccio una volta sola quindi purtroppo viene fuori lungo non ci posso fare niente cerco di mettervi i capitoli così potete vedere i primi minuti di un portfolio e se poi a troppo lungo passate al successivo e poi vi vedete il commento finale è il massimo che posso fare vi ricordo anche che se il video è troppo lungo troppo corto vado troppo piano troppo veloce mi volete più blu più verde ci sono i comandi su youtube potete aumentare la velocità se invece mi volete un po più blu un po più verde lì vi consiglio di andare da uno bravo perché quello è un problema proprio serio scherzi a parte io non mi dilungo oltre vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale Grazie a tutti.